Eccoci, cari amiche e cari amici, buon pomeriggio, benvenute, mi direte vai cosa fai qua in fondo allo studio? E niente, che avevo fatto una promessa e la promessa andava mantenuta, è acceso, è acceso, si è sentito? Ora sì, io comunque ho introdotto questa trasmissione seduta su questo sgabello in fondo allo studio perché avevo fatto una promessa e questa promessa l'ho mantenuta, quindi naturalmente chi l'ha capita l'ha capita, chi deve capirla l'ha capita, io comunque adesso, si sta comodi in effetti, se dovessi solo parlare potrei anche stare tutto il tempo seduta qua così, ecco, invece devo ritornare, devo andare verso la postazione che comunque è quella di tutti i giorni, diciamo di tutti i giorni, tutti i sabati, di tutte le domeniche, intanto avete visto anche forse un po' di disordine, non è senz'altro uno studio preparato per, insomma, per magari questo tipo di ingresso. Bene, andiamo allora a vedere, sono rimasti tutti, eh? La sono dovuta tutta studiare io, eh? Comunque potrebbe anche essere, perché no, il nostro nuovo ingresso, così alla regia l'ho vista molto soddisfatta. È sempre bene accoglierle le varie idee, giusto? Sì, sì, sì. Magari si può anche fare un pezzettino, solo che dovrei avere una ragazza che magari mette le manine qui. Sì, ma va, magari, chi lo sa, chi lo sa, ma chi lo sa? Allora, andiamo a vedere il primo ciondolo, che tra l'altro è un ciondolo molto, molto, mi scappa da ridere. Molto, molto carino, nuovo arrivato, adesso però la regia, tutti qua sono, cameraman, regia. Per questo ingresso ho smosso, ho smosso tutti. Allora, intanto è R1013, l'R1013, parliamo di tre carati. Cari amiche, cari amici, buon pomeriggio, benvenute, mi direte, vai, cosa fai qua in fondo allo studio? E niente, che avevo fatto una promessa e la promessa andava mantenuta, è acceso, è acceso. Si è sentito? Ora sì, io comunque ho introdotto questa trasmissione seduta su questo sgabello in fondo allo studio perché avevo fatto una promessa e questa promessa l'ho mantenuta, quindi naturalmente chi l'ha capita l'ha capita, chi doveva capirla l'ha capita, io comunque adesso non posso, si sta comodi in effetti, se io dovessi solo parlare potrei anche stare tutto il tempo seduta qua così, ecco, invece devo ritornare, devo andare verso la postazione che comunque è quella di tutti i giorni, diciamo di tutti i giorni, tutti i sabati, di tutte le domeniche, intanto avete visto anche forse un po' di disordine, non è senz'altro uno studio preparato per, insomma, per magari questo tipo di ingresso. Bene, andiamo allora a vedere, tutti, sono rimasti tutti, eh? La sono dovuta tutta studiare io, eh? Comunque potrebbe anche essere, perché no, il nostro nuovo ingresso, la regia l'ho vista molto soddisfatta. È sempre bene accoglierle le varie idee, giusto? Sì, sì, sì. Allora, magari si può anche fare un pezzettino, solo che dovrei avere una ragazza che...